Il piacere è soggettivo, la qualità no. Chi non riesce a fare luce è pregato di non fare ombra. Dobbiamo abituarci all'idea che ai più importanti vivi della nostra vita non c'è nessuna segnaletica. La vita è come un ponte, attraversalo ma non costruirci niente sopra. L'imperfezione è bellezza, la pazzia normalità, ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi. Il giorno in cui capirai che i tuoi genitori avevano ragione, avrai un figlio che penserà che tu hai torto. Anche se il timore avrà sempre più argomenti, io scelgo la speranza. La vita e i sogni sono foglie di uno stesso libro. Leggerli in ordine e vivere, sfogliarli a casa e sognare. Fa più rumore una pianta che cade che un bosco che cresce. Dove c'è una strada c'è una storia.